Hai studiato? Ti sei preparata per l'improvviso? Lucina, comprare la libreria, ma come? Sono una concreta, devo fare un'altra cosa? Attenglieri il studio. Col telequizzo. Alla diva, alla diva. E poi? Ti faccio vedere la tecnica per pescare. Gita nel bosco con il maestro Rocco. Così ti è scarto. E all'improvviso, tra Barbara e Emilio, che cambi tutto. Barbara, è sparita. Non mi ha neanche salutato. Emilio Solfrizzi in Sei Forte Maestro 2. Gaia De Laurentiis, Francesca Ritondini, con Valeria Fabrizzi e con la partecipazione di Gastone Moschita. In Prima TV, domenica alle 20.30, su Canale 5. Che uomo può essere il padrone di questo impero? Gli affari sono affari, mamma. Sicuro di sé, con tocco di classe, ma pugno di ferro. Credevo che ci fosse un lì alla tua cantina. Nessuno sa dirgli no, perché a tutto sa dare un prezzo. Ma non mi giocherò un miliardo di dollari. Tratti che è lei. Il fiore sbocciato tra le sue mani. Voglio che tu venga a Parigi. Sono così felice. E che può fargli scoprire l'unico tesoro impossibile da colperare. Un cuore. Salvami. Sei l'unica che possa farlo. Sabrina. Lunedì alle 21.00, su Canale 5. Ciao. 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 Ho avuto un'emergenza. Il pericolo di crollo incombe sulla città, gremita di turisti. Possiamo rimandare i controlli a dopodomani, anche se non li ritengo necessari. Matt e Alison, un'emergenza, hanno ruoli da prima fila. Ma scusa, non mi hai chiesto tu di fare il controllo. I periti e gli ingegneri ti ritengono troppo potente. E il loro amore viene scosso da chi si muove nell'ombra. Alison! Cindy, dove sei tesoro? Ed, faccio l'altro il tetto! Ed! Per il ciclo alta tensione, pericolo imminente. Martedì alle 21.00, in Prima TV Canale 5.00. Lorella Cuccarini, con Dario Ballantini e Gianni Fantoni, presenta L'appassionante sfida tra le più belle canzoni degli anni 80. Questa settimana dal vivo, Umberto Balsamo, Cristian, Grazia Di Michele, Marco Peradini, Mike Francis, Ryan Peris, Michele Pecola, Mino Rintani, Shalpy, Papa Winnie. Con la partecipazione straordinaria di Tony Edgley. E con Nadia Cassini, Lori del Santo, Giugas Casella. Ritorna alla magia degli anni 80 con La Notte Vola. Tomane alle 21.00, su Canale 5.00. Grazie a tutti. Grazie a tutti.